Sono le mani che vengono a despertar, chiamare a voi, io se che no, di quanto non ci hanno, io vengo ancora mai, invece il sole, io da storia, non ci sono le mani che vengono, 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 non ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.